Adesso sto partendo, devo finire di caricare la macchina, uè Dani, ho finito di caricare Adesso devo partire, io ti ho portato il televisore anche per le vacanze, guarda che bello Nicola, è un Sony Black Trini Minchia è bellissimo, però cazzo dove cazzo lo metto adesso? Eh guarda non ho posto, come faccio? Eh vabbè togli qualcosa, tira via dei vestiti, tira via qualche valigia di vestiti Eh va bene dai, cioè è bello Sì sì va bene dai, allora ora vedo di togliere Io devo andare a fare due commissioni qua dietro, arrangiati tu, fai quello che vuoi Va bene dai, ok ora vedo di fare qualcosa Sì sì, è un bel tv veramente cazzo Vediamo tra un venti minuti Va bene, ciao Ma dov'è cazzo la metto sta tv? Vabbè, una soluzione la troviamo Nicola Nicola Allora? Eh io ho preparato tutto, sto a posto, sto partendo Ah vai già via adesso? Sì sì ho sistemato tutto, ho controllato l'olio, l'acqua E' controllato tutto, bene dai Sì sì sono pronto per me Ho caricato tutto, bagagli, tutto Ok dai Nicola Allora ci salutiamo adesso Ci vediamo alla prossima dai Va bene dai Chiamami quando arrivi Va bene dai, sì per meno 8 ore sono giù Va bene Ciao Ciao Dani Oh Da con lui che va in vacanza Non gli ho chiesto dove ha messo il televisore Non lo so Vabbè in un modo o nell'altro lo avrà fatto stare da qualche parte Ah ma chi arriva va Almeno lo saluto Ma cos'è che c'ha? Ma Il televisore Nicola Cazzo ma è scemo il televisore Mi ma Ma l'ha legato dietro la macchina Cazzo il mio televisore Ma do Mi ma mi li devo telefonare Cazzo ma è scemo il televisore Cazzo ma è scemo il televisore Cazzo ma è scemo il televisore